Maestro Pippo Larocca domenica parte la prima sessione delle corse di addestramento ci sono delle novità ce le racconta? Ci saranno le corse di addestramento è un'espressione del paglio il paglio non si è mai fermato certo il paglio non si fermerà il paglio si correrà il 19 settembre e come tradizione almeno due appuntamenti e quest'anno saranno appunto due appuntamenti di corse di addestramento la nostra pista è certificata per poter dare la possibilità ad ogni tipologia di equide di poter disputare una corsa non è una gara è una corsa di addestramento e quindi da questo punto di vista siamo assolutamente a posto la nostra pista è certificata dal MIPAP ed è accettata dall'ASD tutte le autorità che non stiamo ad elencarle e per la prima volta colgo l'opportunità di questa tua domanda correranno in mezzo sangue in questo tipo di corse di addestramento va detto che in passato i mezzi hanno disputato la provaccia e anche in due occasioni il paglio della dominica il paglio importante certo nella provaccia è capitato diverse volte che i mezzi sangue abbiano difese i colori di una contrata questo vuol dire che c'è fermento intorno a questo argomento se ne discuterà se ne discuterà con serenità tranquillità lucidità e correttezza mantenendo comunque forte attenzione quella che è la nostra tradizione quella che è il nostro intimo quella che è la nostra il nostro specifico perfetto e quindi i puro sangue assolutamente per il paglio del 19 dire che correranno il puro sangue non è corretto diciamo che i puro sangue avranno sanno autorizzati a correre il paglio del 19 perfetto i preparativi ci sono che un che si chiara si respira nelle contrade dal tuo osservatorio guarda nelle contrade se tu eri sabato all'impesatura della flora io mi sono espresso con chiarezza riguardo a questo perché fra me te ha ad oggi a settimana scorsa non si vedeva un gran fermento una gran vita di contrada ora le cose stanno cambiando per le corse c'è un gran desiderio di poter essere delle corse ma sfortunatamente saranno a porte chiuse perché queste sono le disposizioni dell'autorità non sono aperte al pubblico e da ora in poi ho conto che il cittadino anche perché signori le reggenze sono delle eccellenti reggenze noi abbiamo otto eccellenti reggenze ma questi uomini e queste donne senza il sostegno dei propri contradioli non vanno da nessuna parte il paglio senza i contradioli non va da nessuna parte il contradiolo ora capirà questa necessità la loro importanza l'importanza peculiare che ha il sostegno popolare e vivo la passione la nostra una passione vera la nostra una voglia di paglio c'è tanta voglia di paglio domenica in queste corse avremo parecchi cavalli abbiamo toccato un record mi dicono per forza fa venire i mezzi allora per forza che ometti però comunque c'è voglia da siena ci chiedono di potersi collegare di poter trasmettere queste corse perché c'è voglia di corse c'è voglia di paglio c'è voglia di vedere gente intorno a dei colori e a cantare per questi colori grazie gran maestro ci vediamo domenica grazie a te